bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video io sono Xyuder e io sono la Fani intanto ragazzi buona domenica epica a tutti degli un po cosa dobbiamo fare oggi nel video dobbiamo aprire il nostro baule del clan mio baule del clan e un altro bauletto bello interessante che per me non è mai interessante è quello argentino è quello argentino dai andiamo ad aprire subito il baulettino argentino vediamo che lo troviamo che abbiamo dentro 71 di oro molto bene scariche e due all rider tanta roba tanta roba dai andiamo a farci una battaglietta per scaldarci le mani così per scaldarci gli animi poi andremo ad aprire i due baulozzi allora come che è successo siamo contro siamo contro della clan dei nulahalaha eccolo esatto ragazzi clan famosissimo nella indocina orientale ve lo ricordo un cattivissimo io 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 cattivissimo io 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 ragazzi attenzione con il bombardino cerchiamo di fare il possibile gioco la zappa e fortuna a fermare il giant ma nostro senso viene mangiato di grande prepotenza dalla sua orla di schede che tra l'altro andrà dentro adesso verso la nostra tower quindi il grande problema è veramente veramente all'ordine del giorno 1711 la torre di destra inviolatissime le sue torri partita che si può tranquillamente vincere lui ha che so fai cosa fai cosa fai 1216 super cattivo e giu col giant tu guarda sempre se registra e giu col giant super cattivi raga strega dietro giocami lorda giocami lorda giocami lorda mi gioca un giant all'otto ragazzi ok ok ancora un attimo di pazienza lui va a zappare vediamo di andare a fermare in modo che poi zapperemo anche noi a nostra volta la sua scintillozza vale appena da una bella zappata ragazzi per la strega dietro che va a colpire il mega sgherro al 9 no no troppo lì di sprecato troppo lì di sprecato adesso bisogna fermare quella cosa lui andrà con il barile poi andrà con sopra un quintetto di orde di scheletri di sgherri eccolo lì ecco lì adesso va la palla di fuoco adesso va la palla di fuoco perfetto perfetto abbiamo guadagnato 4 di elisir con questa giocata ne abbiamo persi tre purtroppo giocando a stop il tris di sgherri arriva il bar la ragazza arriva il bar il bombardino ci aiuta ci aiuta 820 vai 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 giant subito in modo che il bombardino rimane abbastanza indietro e lui appunto va con la scintillozza non mi frega niente dato il giant all'undici con una scintilla al 2 non ha nessun problema come vedete va a colpire senza paura e vanno a tirare giù infatti in questo momento la tower andiamo a fermare bombarolo ancora mega cattivo ragazzi super cattivo il bombardino aspettiamo ancora un istante ancora un istante spiritello ghiacciolo di là ragazzi qua abbiamo la zap molto easy su di qua una fireball giocata in ottima maniera direi che va più che bene ma sì chissene guarda giù sempre gente all'uncese ciao metti giù le scintille e te mi raccomando metti le scintille che noi abbiamo altro da fare abbiamo bene così bene così ragazzi a poi sei fico si quella tirata lui o sei fico qua ci sta la scinti qua ci sta la scinti direi che senza troppi problemi possiamo andare a zappettare anche il barrel e la partita è assolutamente a nostro favore molto bene così la prima sunshine la portiamo a casa ragazzi qua ci vuole un baule sugoso per festeggiare quale quello del clan prego tutto 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 tutti con la pami ragazzi tutti con la pami bel like se vi sta piacendo il video mi raccomando un bel like per far trovare la pami la leggendaria 1620 di gold nice 4 stregoni really bad che non mi piacciono 38 giganti royale che fanno schifo che ho 4778 su 2 si 42 bombardini caia 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 59 cavalieri niente niente leggendaria niente leggendaria 101 gang di goblin se arriva l'epica se arriva l'epica 23 goblin c'è il botanile e allora deve arrivare la strega arrivano 3 scheletroni ma l'hai presa l'epica no dai prendigli anche per i ragazzi prendiamo l'epica dai no c'è il peccano shop che stronzona dai strega 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 no cacciatore cacciatore allora ragazzi prima di andare ad aprirci il baulozzo del clan facciamo partire questo per aprirci il baulozzo del clan ragazzi un'altra sfida dai dai ne puoi del clan ritrovare siamo contro anche questo dei neslo neslo 4192 per lui no perché la fireball mamma mia ma doveva essere una zap doveva essere una zap ho sbagliato ho sbagliato ragazzi grandi problemi grandi problemi va bene va bene ok allora giochiamo un giant sulla destra della torre così il lanciere mi va a colpire il giant senza fretta attendiamo la sua geccata per fermare il giant gli piazziamo una notturna dietro bene un bombarolo a schifo proprio ok ok oh addirittura la furia OP lui ha messo la furia ma il mio bombardino cos'è per fare cos'è beh beh ha protetto bene la capanna eh ha protetto molto bene la capanna tu hai la spera all'undici no vero? no al dici male molto male andiamo di nuovo di fireball andiamo di nuovo di fireball riusciamo qua ah questo vince lui eh vince lui questa è persa questa è persa va bene così vediamo se riusciamo andiamo se riusciamo ma credo che sia stra persa come partita lui entra con una prepotenza veramente ineguagliabile veramente ignobile e quindi credo sia veramente molto difficile cercare di andare alla vittoria anche perchè è noto purtroppo che le due torri su... vai vai sono intoccate vai 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 di prepotenza di prepotenza così dai figlio dei pu dai figlio dei pu aspettiamo l'orda aspettiamo l'orda vai giant vai giant ok ok e la zappetta e la zappetta bene il giant che va bene il giant che va ragazzi va a picchiare duro sulla torre di sinistra ma non credo si possa fare molto un bombardino da dietro senza paura andiamo a giocarlo per fermare la gang bene così bene così vai sul valchirione vai sul valchirione perfetto io la riprovo lo voglio salvare lo voglio salvare salviamo il bombardino salviamo il bombardino ragazzi dai mi gioca l'orda mi gioca l'orda ma c'è lo spirito dell'ice ok ok orda anche per me forza due si girano la zapp pulisce tantissimo pulisce tantissimo la zappa attenzione 8 e 29 5 e 22 2 e 15 e andiamo a riportarci al pareggio ragazzi allora andiamo a spingere duro allora andiamo a spingere duro raga giù con la strega notturna bene così vediamo dove gioca lui oh molto interessante va bene va bene strega di qua easy easy giant davanti spirito del ghiaccio per deviare attenzione attenzione lasciamo andare un'altra strega notturna 8 e 21 6 e 35 dai che andiamo dai che andiamo raga bombardino davanti bombardino davanti dai che andiamo raga ce la si fa ce la si fa stoppalo qua stoppalo qua 18 secondi alla fine siamo messi molto stronzoni lui alla sbrinza si lui alla sbrinza gli andiamo a fare la seconda torre lui obbligato a tirare le frecce andiamo con un altro giant centrale attenzione dietro lo spirito del ghiaccio ce la può fare ce la può fare raga stiamo colpendo di brutto lo stiamo colpendo veramente di brutto mette gioca e andiamo a vincerla così calmo perché è un video calmo scusa e tanto facete questa roba che mi fa stico scusa scusa grandi vittorie di xyuder bene così allora gioco in modo economico 66 oh 50 scusa 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 beh direi che qua direi che qua è assolutamente mega meritato il baolozzo prego tutto per te prego dai che andiamo dai 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 1320 di gold vigliaca vigliaca 3 gang di goblin una campana di giallo 15 bombarolo ma a me non mi prego niente ce l'hai il bombarolo 31 sgherretti c'è anche bombolò e piglio anche i soldi hai visto che ho preso i soldi perché c'è l'idea no grandi 155 di gold molto fico ci manda due barba di scelta quasi non servono 155 di squinzi dai la strega te l'ho detto che non trovi una merda la strega la strega la strega la strega ai 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 peccato 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 beh ragazzi direi che il video per questa domenica può finire qua noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito mi raccomando tanti like attivate la campanella per essere aggiornati e iscrivetevi noi ci vediamo presto ciao